C'è un posto in Italia dove le idee diventano impresa, si chiama Timbukato. Fiff, ti vogliono il telefono. Ma lo sai che la tua faccia mi fa proprio ridere? Ma chi è? È una persona non udente. Come fai a sapere per il telefono? Nella nostra idea si chiama Fede. Anche i non udenti possono comunicare con gli altri senza intermediari. Scrivono dei messaggi che vengono trasformati in una via e propria telefonata. L'idea è molto bella. Ma la mia faccia fa così ridere, no? Così. C'è un posto in Italia.